Torniamo qui a Roseto per affrontare una giornata del campionato del mondo, delle World Series, una tappa casalinga molto importante perché affrontiamo l'America, squadra che insieme a noi, al Kazakistan e all'Azerbaijan, penso si giochi il pass per andare avanti. Quindi giocare in casa è molto importante, noi abbiamo scelto Roseto perché Roseto ha dimostrato di essere avanti e pronta per l'organizzazione di un evento pugilistico. Già noi siamo venuti qua nel 2008, come federazione abbiamo investito nel torneo di qualificazione olimpica del 2008 e io mi auguro che sia di buon auspicio per arrivare alle qualificazioni o qualificarsi per Rio 2016. Sicuramente noi abbiamo il 64 kg e Vincenzo Mangiacapra, che è il nostro capitano, ha già fatto Londra nel 2012 e ha preso il bronzo. Sta cercando di riqualificarsi a Rio per togliersi una grande soddisfazione e anche bronzo mondiale, quindi ci sono i presupposti perché diventi un grande della box italiana. Dietro di lui ci saranno sicuramente i campioni italiani dei pesi medi e dei pesi massimi che vogliono dire a loro. Abbiamo un 49 kg irlandese, un 56 kg anche lui irlandese, due campioni d'Europa, vici campioni del mondo e medaglie olimpiche, quindi noi in squadra abbiamo veramente il top del pugilato europeo.